Oggi parleremo di otto cose che ci tengono lontani da Dio e come sfuggirle. Sai chi è l'unica persona che può impedirti di vivere vicino a Dio e di ottenere tutto ciò che Egli desidera per la tua vita? Sei tu. Non è quella persona che si ostina ad essere una spina nel tuo fianco. Non è il capo che non ti dà opportunità, nemmeno il diavolo. Quando abbiamo un desiderio genuino di avvicinarci a Dio, niente e nessuno può allontanarci da Lui. Nonostante ciò possiamo avere alcuni atteggiamenti sbagliati che ci tengono lontani da Dio e dalla sua volontà per noi. Evita i seguenti comportamenti se vuoi stare vicino a Dio. Pigrizia. Dio è un Dio d'azione ed è per questo che si rallegra quando vede che facciamo passi di fede e siamo pronti ad agire. La Bibbia parla chiaramente in Proverbi 6, dal versetto 9 all'11, contro la pigrizia e il danno che essa può causare nella nostra vita. La pigrizia non solo danneggia il nostro sviluppo personale ed economico, ma può essere fatale per la nostra vita spirituale. Ad esempio, la pigrizia può impedirci di pregare e leggere la Bibbia. Di conseguenza, ci lascia spiritualmente freddi e più lontani da Dio. Fai uno sforzo, stabilisci un piano e riserva del tempo per pregare e leggere la parola. Non è saggio voler iniziare a pregare e leggere la Bibbia per due ore al giorno, ma inizi con dieci minuti al giorno e aumentarli gradualmente. Col passare del tempo, Dio opererà nella tua vita e ti sentirai più forte e più vicino a Lui. Pettegolezzo. Il pettegolezzo riguarda aspetti della vita di una o più persone senza il loro consenso. Potrebbe rivelare i segreti di qualcuno o addirittura inventare storie su altre persone. Questo atteggiamento di solito provoca discordia e disunione tra le persone, ed è quindi un peccato davanti a Dio. Per questo motivo, la Bibbia ci avverte in secondo Timoteo capitolo 2, versetto 16, di non spettegolare, ed in Proverbi 20, versetto 19, ci avverte a evitare di spettegolare. Anche se una persona commette un errore, parlarne alle spalle con altre persone non la aiuterà in quella situazione. Dio conosce l'intenzione del nostro cuore e, se vogliamo davvero aiutare, possiamo parlare direttamente alla persona o semplicemente pregare per lei. Efesini 4, versetto 29, ci dice che se le nostre parole non servono ad edificare, è meglio non dire nulla. L'invidia è una delle opere della carne descritte in Galati 5, versetto 21, quindi è un peccato e dobbiamo eliminare dalla nostra vita se vogliamo vivere vicino a Dio. Essere gelosi di qualcuno significa voler avere qualcosa che non è tuo, e questo spesso provoca un sentimento di disgusto quando qualcuno ha successo in un certo ambito della sua vita. Uno dei segreti della felicità e il modo migliore per combattere l'invidia è la contentezza secondo Filippesi 4, versetto 12. Dobbiamo rendere grazie a Dio in ogni circostanza e non desiderare i risultati degli altri? Ciò non significa che non devi lottare per migliorare le tue condizioni di vita, ma che devi imparare a glorificare Dio anche quando le cose non vanno come vorresti. Ricordati delle parole di Abacuc. Infatti il fico non fiorirà. Non ci sarà più frutto nelle vigne. Il prodotto dell'ulivo verrà meno. I campi non daranno più cibo. Le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore. Esulterò nel Dio della mia salvezza. Egoismo. Qualcuno ti ha mai detto? Il mondo non gira intorno a te? Se la risposta è sì, probabilmente stavi adottando un comportamento egoistico. L'egoismo ci fa pensare solo a noi stessi e non preoccuparci di chi ci circonda. L'opposto dell'egoismo è l'altruismo. E Gesù è il più grande esempio altruistico che possiamo avere. Non ha pensato a se stesso, ma ha pensato a ciascuno di noi, essendo andato sulla croce, dove è morto per i nostri peccati, riconciliando con Dio tutti coloro che credono nel suo sacrificio. Matteo ci esorta ad amare gli altri come noi stessi, e in Filippesi 2, versetti 3 e 4, ci esorta a considerare gli altri migliori di noi stessi. Ma affinché ciò accada, dobbiamo prima amare Dio e lasciare che il suo amore perfetto trasformi la nostra vita, eliminando ogni traccia di egoismo. Avidità. La Bibbia è molto chiara in 1 Timoteo capitolo 6, versetto 10, quando ci dice L'amore per il denaro è la radice di tutti i mali. Alcune persone interpretano erroneamente questo passaggio biblico, dicendo che il denaro è la radice di tutti i mali. Ma avere soldi non è il problema. Il denaro è qualcosa di neutro, può essere usato per fare cose buone o cattive. La Bibbia parla di diversi uomini timorati di Dio che erano piuttosto prosperi in termini di possedimenti, come Giobbe e Abramo. Il problema è quando amiamo prima il denaro e non Dio. Gesù stesso ha detto che non è possibile servire Dio e il denaro. Quando amiamo il denaro, Dio perde importanza nella nostra vita. Alcune delle più grandi atrocità commesse in questo mondo sono commesse a causa dell'amore per il denaro. Ama Dio sopra ogni cosa e non lasciare che il denaro controlli la tua vita e i tuoi sentimenti, così sarai più vicino a Dio. Rabbia incontrollata. Un attimo di perdita di controllo e di rabbia può bastare per distruggere la vita, la tua e quella di altre persone. La rabbia di per sé non è un peccato, perché la Bibbia dice che è possibile arrabbiarsi senza peccare. Ci sono momenti nella nostra vita in cui è normale arrabbiarsi per una situazione. Anche Gesù si adirò quando vide che i mercanti commerciavano nella casa del padre suo. Il grosso problema è quando la rabbia arriva in modo prolungato e incontrollato. Quando la rabbia controlla la nostra vita, ci allontaniamo da Dio. L'amitezza è uno degli aspetti del frutto dello Spirito e attraverso di essa possiamo evitare che la nostra rabbia si trasformi in peccato. La parola di Dio ci comanda in Tito 3.2 di essere operatori di pace e gentili con coloro che ci circondano. Immoralità sessuale. Il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e quando pratichiamo qualsiasi tipo di immoralità sessuale, pecchiamo contro il nostro stesso corpo, profanando la dimora dello Spirito Santo e causando una separazione da Dio. L'immoralità sessuale consiste nei peccati sessuali. Il sesso non è una brutta cosa, è stato creato da Dio per essere vissuto tra due persone di sesso opposto e sposate. In quanto creatore della sessualità, Dio determina il modo corretto di praticarla. Qualsiasi attività sessuale praticata al di fuori del matrimonio è immoralità sessuale, cioè è un peccato. Abbiamo bisogno di vivere pieni dello Spirito Santo che ci dà l'autocontrollo per poter resistere alle tentazioni e sfuggire all'immoralità sessuale. Idolatria. Molte persone non comprendono il concetto di idolatria dicendo che l'adorazione di una statua o di un altro Dio è idolatria, ma la verità è che l'idolatria può essere molto più sottile e quindi più pericolosa. L'idolatria è mettere qualcosa o qualcuno al posto di Dio. Un idolo non è necessariamente una statua, può essere tuo padre, tua madre, tuo marito, tua moglie, tuo figlio, tua figlia, il tuo pastore, eccetera. Qualsiasi persona che assume l'importanza che solo Dio merita sta dando origine all'idolatria nelle nostre vite. Possiamo non inchinarci fisicamente davanti ad altri dèi o statue, ma spesso mettiamo la nostra speranza e la nostra fiducia in cose che non sono Dio, come la sicurezza finanziaria o persino la famiglia. Dio non condivide la sua gloria con nessuno, quindi metti sempre Dio al primo posto nella tua vita e Lui ti aggiungerà tutto il resto di cui hai bisogno. Riflessione. Dopo aver sentito questi difetti, c'è qualcosa che fa parte della tua vita? Se sì, prega e chiedi a Dio di esaminare il tuo cuore, perché Lui ti conosce e vuole essere vicino a te. Se ti identifichi con uno di questi difetti, chiedi perdono e ritorna al Padre che ti accoglierà a braccia aperte. Sostienici iscrivendosi al canale. Se ti sono piaciuti questi argomenti, condividi con i tuoi amici. Un abbraccio e Dio ti benedica!